Hanno lavorato quasi 24 ore, compresa la notte, per domare le fiamme alla cartiera S.T. di Porcari, provincia di Lucca. L'incendio scoppiato ieri intorno alle 13 è stato spento, ma sul posto ci sono ancora due squadre impegnate nel monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. Restano in vigore le ordinanze dei comuni di Porcari, Capannori e Alto Pascio sulla qualità dell'aria, finché Arpate e Asl non renderanno noti i risultati delle analisi sui terreni. Nelle prescrizioni comunali si raccomanda di tenere porte e finestre chiuse e di lavare bene gli ortaggi coltivati negli orti locali. Oggi in base all'ordinanza del sindaco di Porcari, Fornaciari, sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine, grado, i nidi e il centro anziani. Da accertare le cause del maxirogo che ha devastato il magazzino del prodotto finito. Avrebbe fornito documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno chiedendo in cambio compensi che andavano dai 50 ai 40 mila euro a seconda del servizio offerto. Falsa busta paga, dichiarazione di ospitalità, assunzione fittizia. Mi correggo, i compensi andavano dai 50 ai 4 mila euro. Così una società di servizio alla persona di Chianciano Terme, in provincia di Siena, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, dal maggio 2021 ad oggi aveva assunto 347 badanti straniere, donne e uomini, dei quali solo 58 impiegati davvero nell'attività lavorativa. Le indagini hanno portato tre persone agli arresti domiciliari, cioè il promotore della società e due più stretti collaboratori e 14 le perquisizioni eseguite nei giorni scorsi dalle fiamme gialle nelle province di Siena, Firenze, Arezzo, Mantua, L'Aquila e Viterbo. Otto in totale le persone indagate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A nome mio e del gruppo consigliare della Lega, desidero esprimere la mia vicinanza al presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, preso di mira sui social dai soliti professionisti dell'idiozia. Così il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Toscana, Elena Meini. Troppo spesso ormai, prosegue la consigliera, chi esprime giustamente una ferma condanna a seguito di fatti incresciosi che puntano a minare la nostra democrazia, è soggetto a questi inaccettabili attacchi. A causa di un incidente tra un veicolo e un mezzo pesante sulla strada statale 1 via Aurelia, intorno alle 7.30 di questa mattina è stato chiuso e poi riaperto il tratto in direzione Roma nei pressi del chilometro 352 a Via Reggio. Nell'incidente un uomo è rimasto ferito, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale Versilia. Il traffico in direzione Roma è stato deviato per circa due ore. All'Assemblea nazionale del PD ho visto un clima di grande armonia fra Eli Schlein, ieri ufficializzata segretaria nazionale, e Stefano Bonaccini, eletto presidente sostanzialmente all'unanimità. Lo ha detto Eugenio Gianni, presidente della regione toscana, secondo cui se mettiamo insieme tutto, se riusciamo a vivere come sinergia unitaria queste ispirazioni culturali e politiche, il PD può davvero svolgere un ruolo molto importante oggi come principale forza all'opposizione e domani al governo del Paese. Bisognava dare un messaggio chiaro, semplice e comprensibile. Il messaggio dell'Assemblea nazionale del PD è stato di lavorare insieme a questa nuova importante fase con grande spirito di unità, partendo dai temi e soprattutto lasciandoci alle spalle i vecchi metodi che hanno logorato i gruppi dirigenti e la stessa vita del partito. A dirlo il sindaco di Firenze Nardella intervenendo a proposito dell'Assemblea nazionale del PD. Verrà depositato nei prossimi giorni il ricorso in appello contro la sentenza di condanna a sei anni per Manolo Portanova. Lo conferma l'avvocato Gabriele Bordoni, legale del calciatore. Il calciatore del genere è infatti accusato di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 22 anni avvenuto a Siena a maggio 2021. La ragazza aveva riportato una prognosi di dieci giorni. Ci sono prove che abbiamo portato durante il processo e che non sono state considerate, spiega l'avvocato. Un girotondo sulle note delle canzoni di Francesco Renga per chiedere che Suor Angela, la nonna col velo della loro scuola, non venga trasferita. È il flash mob che si è svolto questa mattina prima dell'inizio delle attività didattiche, dai bambini della scuola dell'infanzia Alda Mazzini e del nido Nazareth in piazza di Santa Maria del Pignone a Firenze. Le famiglie dei 30 bambini che frequentano le due scuole paritarie non vogliono che la Suora, ottantenne ma in perfetta salute fisica e mentale, lasci la loro comunità scolastica, come invece è stato stabilito dalla congegrazione delle suore mantellate, serve di Maria a cui appartiene. Si chiedono anche le motivazioni del trasferimento. La ricetta per la felicità, donare vita, donare sangue. Questo è lo slogan lanciato da Fratres Toscana nelle farmacie della regione che consegnano le medicine all'interno di sacchetti di carta, proprio per promuovere le donazioni di sangue. Dopo aver distribuito oltre 2 milioni di buste per il pane nei pannifici toscani durante la pandemia e oltre un milione di bustine di zucchero a forma di cuore durante San Valentino, Fratres ha scelto questa nuova iniziativa per raggiungere i potenziali donatori. E veniamo ora alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Variabile con piogge sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale. I venti sono moderati da Libeccio a Maestrale, raffiche forti invece sulla costa centro-settentrionale. I mari sono mossi, le temperature in calo le massime. E' tutto per questa sera, arrivederci.